Questo è Lorenzino, è un cagnolino di 4 anni, è stato investito e abbandonato con la spina dorsale rotta, è stato trovato da un passante che ha fatto sì che qualcuno lo soccorresse. I veterinari ci hanno suggerito di sopprimerlo, invece noi abbiamo deciso di farlo operare perché ci dava troppa vitalità. Dopo mesi e mesi di terapie siamo riusciti ad abituarlo a questo carrellino che è stato costruito ad hoc per lui e giorno dopo giorno, faticosamente, siamo riusciti a fargli capire che poteva muoversi e avere una vita normale. Tutt'ora Lorenzino non ha nessun problema a lavorare con altri cani e vive una vita tranquillissima, felicissima. Anzi, è il più viziato di tutti perché lui tutti i giorni ha la possibilità di uscire perché tutti i giorni lo porto fuori a fare una passeggiata di un'oretta. È pieno di vita, ha tantissima voglia di correre e di giocare. Avete visto che voglia di vivere il nostro Lorenzino, come è allegro, come è giocoso e lui davvero è un cagnolino. Come tutti gli altri amici, credetemi, ma più di tutti gli altri vi darà amore e affetto. E poi ha una piccola taglia e quindi è gestibile in ogni situazione. Telefonate subito a Casal Pusterlengo al 349 88 58 434 Oppure come al solito scrivete a portamiacasa.chioccioladallapartedeglianimali.it Lorenzino sarà il vostro nuovo amico.